capitolo 10 il pranzo era pronto e fu divorato con avidità dal professor lindebrock al quale la dieta forzata del viaggio aveva trasformato lo stomaco in un abisso profondo quel pasto più danese che islandese non ebbe nulla di notevole per se stesso ma il nostro ospite più islandese che danese mi ricordò gli eroi dell'ospitalità antica e mi sembrò evidente che fossimo considerati in casa sua più di lui stesso la conversazione venne fatta nella lingua del paese che però mio zio inframezzava di tedesco e il signor fridixon di latino per chi io potessi comprenderla verte su problemi scientifici come si addice fra studiosi ma il professor lindebrock parlava con estrema cautela e i suoi occhi mi raccomandavano a ogni frase di mantenere un silenzio assoluto circa i nostri progetti futuri il signor fridixon prima di tutto si informò dallo zio circa i risultati delle sue ricerche alla biblioteca la vostra biblioteca esclamò questi ma se non è composta altro che da libri spaiati su scaffali quasi completamente vuoti come rispose il signor fridixon possediamo 8000 volumi molti dei quali preziosi e rari opere in antico scandinavo e tutte le novità che ci vengono mandate ogni anno da copenhagen ma dove avete questi 8000 volumi da parte mia signor lindebrock girano per il paese amiamo lo studio nella nostra isola di ghiaccio non vi è contadino pescatore che non sappia leggere e che non legga noi crediamo che i libri anziché ammuffire dietro una grata di ferro lontano dagli sguardi curiosi debbano consumarsi sotto gli occhi dei lettori così questi volumi passano di mano in mano sfogliati letti e riletti e spesso ritornano al loro scaffale soltanto dopo un anno o due di assenza nel frattempo rispose mio zio con un certo rispetto gli stranieri che volete gli stranieri hanno nei loro paesi le loro biblioteche e prima di tutto bisogna che i nostri contadini si istruiscano ve lo ripeto l'amore per lo studio è nel sangue islandese perciò noi nel 1816 abbiamo fondato una società letteraria che procede bene molti studiosi stranieri si onorano di farne parte essa pubblica libri educativi ad uso dei nostri compatrioti e rende veri servigi al paese se volete essere uno dei nostri membri corrispondenti signor lindebrock ci farete moltissimo piacere lo zio che apparteneva già a un centinaio di società scientifiche accettò con una benevolenza che lusingò il signor friedixon e ora riprese a dire indicatemi i libri che speravate di trovare nella nostra biblioteca forse posso darvi qualche informazione guardai lo zio e gli esitò a rispondere la cosa centrava in pieno i suoi piani tuttavia dopo aver riflettuto decise di parlare signor friedixon disse volevo sapere se fra le opere antiche possedevate quelle di arnes acnussem arnes acnussem rispose il professore di reikawick intendete parlare di quello scienziato del sedicesimo secolo famoso naturalista alchimista e viaggiatore precisamente una delle glorie della letteratura e della scienza islandesi proprio lui un uomo di gran fama siamo d'accordo e la cui audacia era pari al genio vedo che lo conoscete a meraviglia lo zio non stava più nella pelle dalla gioia di udire parlare così del suo eroe e divorava con gli occhi il signor friedixon e dunque chiese le sue opere ah ma noi non le abbiamo le sue opere come in islanda non esistono né in islanda né altrove e perché perché arnes acnussem fu perseguitato come eretico e nel 1573 le sue opere furono arse a copenhagen per opera del carnefice benissimo perfettamente esclamò lo zio con grande scandalo del professore di scienze come fece questi sì tu tutto si spiega tutto si concatena tutto è chiaro e comprendo ora perché sacnussem posto all'indice costretto a nascondere le scoperte del suo genio dovesse mascherare sotto un incomprensibile criptogramma il segreto che segreto domandò vivamente il signor friedixon un segreto che del quale balbettò lo zio avete forse qualche documento particolare chiese il nostro ospite no facevo una semplice supposizione bene rispose il signor friedixon il quale ebbe la cortesia di non insistere vedendo il turbamento del suo interlocutore spero aggiunse che non lascerete la nostra isola senza avere attinto alle sue ricchezze minerali certamente rispose mio zio ma arrivo un po tardi altri scienziati saranno passati di qui sì signor lindebrock i lavori del signor slavsen e polversen eseguiti per ordine del re gli studi di troil la missione scientifica dei signori gamere robert a bordo della corvetta francese la recherche e per finire le osservazioni degli scienziati imbarcati sulla fregata la reina hortense hanno contribuito validamente all'esplorazione dell'islanda tuttavia credetemi rimane ancora molto da fare credete chiese lo zio buonariamente e cercando di moderare il lampo dei suoi occhi sì quante montagne quanti ghiacciai e vulcani poco noti rimangono ancora da studiare guardate senza andare oltre guardate quella montagna all'orizzonte è lo snaffels ah ripete mio zio lo snaffels sì uno dei vulcani più strani e il cui cratere viene esplorato assai raramente spento da 500 anni molto bene rispose lo zio incrociando freneticamente le gambe per non balzare in aria mi piacerebbe cominciare i miei studi geologici da questo seffel fessel come lo chiamate snaffels rispose l'ottimo signor friedixon questa parte della conversazione aveva avuto luogo in latino io avevo capito tutto e con grandi sforzi riuscivo a mantenermi serio nel vedere mio zio cercare di trattenere la sua soddisfazione che straripava da ogni parte e gli cercava di darsi un'aria innocente che somigliava alla smorfia di un vecchio diavolo sì sì disse le vostre parole mi fanno decidere e cercheremo di scalare questo snaffels e forse anche di studiare il suo cratere sono molto spiacente rispose il signor friedixon che le mie occupazioni non mi consentano di assentarmi vi avrei accompagnato con piacere e con profitto oh no 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 rispose vivamente lo zio non vogliamo disturbare nessuno signor friedixon vi ringrazio di tutto cuore la compagnia di uno scienziato vostro pare mi sarebbe stata utilissima ma i doveri della vostra professione spero spero sinceramente che il nostro ospite nell'innocenza della sua anima islandese non comprendesse le grossolane facezie dello zio approvo moltissimo la vostra idea signor lindebrock di cominciare da quel vulcano disse lei potrete raccogliere moltissime osservazioni bizzarre ma ditemi come pensate di raggiungere la penisola dello snaffels per mare attraversando la baia è la strada più breve senza dubbio ma è impossibile prenderla e perché perché non abbiamo neppure una lancia reikawick perbacco bisognerà andare via terra seguendo la costa sarà più lungo ma più interessante sta bene penserò a procurarmi una guida ne ho appunto una da offrirvi un uomo sicuro intelligente sì un abitante della penisola un cacciatore di eider abilissimo di cui sarete contento parla benissimo il danese e quando potrò vederlo domani se vi fa piacere e perché non oggi perché arriva solo domani a domani allora rispose lo zio con un sospiro questa importante conversazione ebbe termine alcuni istanti dopo con caldi ringraziamenti del professore tedesco al professore islandese durante il pranzo mio zio aveva appreso cose importantissime fra le quali la storia di sak nussem il perché del suo misterioso documento e per quale ragione il suo ospite non poteva accompagnarlo nella spedizione e che il giorno dopo avrebbe avuto una guida a sua disposizione diciamo Grazie a tutti